Io sono Filippo e lei è? Bianca Noi vorremmo tanto andare al mare, però dobbiamo stare a casa Però in qualche modo oggi vi possiamo portare a tutti quanti nel mare, vero Bianca? Ma adesso? Adesso, per finta, vi facciamo conoscere degli animali del mare Che animali ci abbiamo oggi? Le stelle marine Le stelle marine, siete pronti a vederle? Queste stelle marine le abbiamo catturate noi nel mare? No, le hanno vede altri pescatori che le hanno messe in mare e le abbiamo salvate Ah, quindi vengono dalle reti dei pescatori? Sono tutti animali che loro hanno catturato però non riescono a vendere Perché non hanno un valore commerciale, vero? Non le vendono al mercato E quindi muoiono Allora le abbiamo salvate, andiamole a vedere Eccole, Bianca Quante sono? Tre Brava Due rosse E una marroncina E un po' bianca E un po' bianca, sì Senti una cosa bianca, ma queste stelle noi le possiamo tirare fuori dall'acqua? No Perché che gli succede? È vero che qui Che muoiono Muoiono, sì Sai perché? Perché qua, qua sopra Loro hanno dei piccoli buchettini Che gli servono per far entrare l'acqua Se noi la tiriamo fuori dall'acqua Potrebbe entrare una bollicina d'aria dentro al loro corpo E loro potrebbero morire Quindi è meglio, sempre meglio non tirarle fuori dall'acqua Però Le possiamo vedere Le giriamo un attimo Vediamo come sono fatte dietro Guarda, eh Vedi? Ci sono tutti questi canali E qui c'è la bocca della stella Questo buchino? Quel buchino lì Il centro? Sì, esattamente Queste zampette che si vedono Piccole piccole Che si attaccano sotto alle loro braccia Come si chiamano, Bianca? Felicelle Bravissima Si muove? Le stelle marine Hanno delle grandi capacità rigenerative Infatti se si rompe un braccio Loro lo possono ricreare Alcune stelle marine Sono predatori che mangiano Che gli piace mangiare le cosse È vero Tutte le stelle marine hanno cinque braccia Questa per esempio Ne ha sei Ne ha sei Hai capito? Facciamo un applauso alle stelle marine? Sì Vai Grandi effetti speciali Ripetiamo adesso dentro l'acquario Le stelle marine Però ricordatevi di stare a casa Perché c'è ancora virus SPOLPEX Era un progetto Che c'è ancora un po' Che c'è ancora un po' Che c'è ancora un po' Che c'è anche un po' Grazie a tutti.